Venite con noi. In giro per l'Italia con Maurizio Donelli, alla scoperta degli chef stellati con la passione per la cacciagione. Direi che ci siamo quasi. Per dovervi assaggiare. Selvagina in cucina, un appuntamento da buon gustai. Tagliata di cervo e funghi porcini grigliati. Caccia alle stelle, seconda stagione. Dal 19 settembre, ogni venerdì alle 22. Su Caccia, canale 235. Grazie.